Click! Ben ritrovati i miei cari avventori dell'Usona Barcalcio, non perdiamoci in chiacchiere perché oggi ho molte cose da dire, a cominciare dalla vittoria ieri e della Juventus nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta che ha perso purtroppo Gasperini, terza finale che perde, mi dispiace sinceramente, mi dispiace perché il percorso meritava secondo me un epilogo differente, però insomma non voglio soffermarmi su questo per nulla perché ieri a fine partita sono successe delle cose che fanno capire altre cose, che cosa intendo? Allegri ha sbotato sia de facto che a parole e se c'è una certezza che ci regala la finale di ieri vinta con la Juventus, oltre ovviamente a sapere chi ha alzato la Coppa è che Allegri con buona probabilità vicina al 100% non sarà più l'allenatore della Juventus perché mi sembra di aver capito che abbia, e ho anche visto e ammetto che secondo me è andata così, sfanculato un attimo sicuramente qualche dirigente della Juventus, forse proprio giunto lì stesso, ha lasciato intendere che non rimarrà perché dice che lasci in eredità una società vincente, e ieri tra l'altro ho visto la partita, devo ammettere che la Juventus pur magari non offrendo sì quel calcio champagne, però ieri abbiamo visto che quando i giocatori sono motivati la Juventus è ancora molto forte e ben più forte di quello che non ha fatto vedere in questa seconda parte di campionato, segno che se è vero a questo punto incomincio ad avere molte pulci nel cappello che Giuntoli probabilmente già a gennaio si sta muovendo per situazioni differenti da Allegri, Allegri probabilmente l'ha saputo perché vive in quell'ambiente, i giocatori l'hanno capito perché vivono in quell'ambiente, forse adesso si spiega anche perché la Juve è crollata da gennaio in poi, sicuramente Allegri non è stato aiutato da Giuntoli, io spesso sempre una lancia anche due a favore di Allegri perché personalmente lo ritengo un grande gestore che ne fanno, a mio modo di vedere un grande allenatore che è stato totalmente vilipeso in questi anni dai social dove è stato attaccato a più riprese in maniera secondo me anche esasperante, chiudo qua perché a me poi non interessa andare oltre ma mi interessa perché come sappiamo e come lo sa lo stesso Allegri a questo punto, si parla sempre che alla Juve lui se ne vada perché debba arrivare qualche d'uno e sappiamo che quel qualche d'uno che si chiacchierizza è Tiago Motta, Fabrizio Romano abbiamo detto non più tardi di ieri oltre ad aver aggiunto che ci sono anche società in premier, mi sembra che abbia citato il Chelsea e adesso non mi ricordo quale fosse l'altra ma ce n'era un'altra, sono interessate Tiago Motta e secondo Fabrizio Romano Tiago Motta avrebbe in cima alla lista dei suoi pensieri la Juventus e la Juventus in cima alla sua lista Tiago Motta. Staremo a vedere quello che è certo è che Tiago Motta parlerà consaputo dopo la partita di lunedì, quindi presumo io o lunedì dopo la partita o al più tardi martedì il giorno dopo ci sarà questo agognato incontro. E come ci arriva il Bologna? Il Bologna ci arriva nelle migliori delle condizioni dal punto di vista di raggiunta degli obiettivi di quest'anno perché possiamo offrire la partecipazione alla Champions League. Io penso che fosse impensabile riuscire ad arrivare a questo momento a trattare con Tiago Motta con in mano questa grandissima carta e quindi sarà il progetto che gli verrà offerto a far pendere l'ago della bilancia perché io ribadisco un concetto, se il Bologna fa capire a Tiago Motta che qua c'è un progetto importante al rilancio, Tiago Motta rimarrà. Se anche solo gli verranno posti dei paletti del tipo 1 lo dobbiamo vendere, c'è quella situazione intricata che non riusciamo a risolvere, dobbiamo andare a prendersi sul mercato ovviamente altri baldi giovani, dobbiamo andare a prendere invece delle certezze che fanno magari nome come quelli che stanno uscendo in so, Torsvert e compagnia bella e cantante, certo è difficile poi riuscire secondo me a trattenere Tiago Motta quando magari sul piatto vuole anche della sostanza ben più sostanziosa, non so se mi spiego. Però il Bologna con, e qui vada al secondo argomento della giornata, con la mossa Odgard, perché chiamo mossa Odgard? Perché nella giornata di ieri è stato rilasciato un comunicato dove Odgard sarebbe giocatore riscattato dal Bologna che si è avvalso dunque della clausola fatta a suo tempo a gennaio con la Zeta Alkmar per andare a prelevare James Odgard e il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni e mezzo. Quindi questo che è un uomo a cui Tiago Motta piace molto anche la celerità con cui il Bologna si è mosso, magari vuol far capire che si vogliono fare le cose per tempo e seriamente e dunque è già iniziata l'epoca dei fatti, l'era dei fatti e questa potrebbe essere sicuramente una mossa a nostro vantaggio. Dico un'altra cosa, rimanendo sempre in queste tematiche, si parla, no? C'è chi ha già da fatto da tempo, vabbè già da febbraio questo, figuriamoci, Tiago Motta alla Juve e c'è chi sta rilanciando in queste ultime ore che Sarri sarebbe pronto ad accettare, ad accogliere il Bologna e che il Bologna vedrebbe in Sarri il piano B primario. Io dico no a Sarri, dico no a Sarri e sarò molto veloce nel spiegarvi le motivazioni. Sarri no perché Tiago Motta ci ha mostrato la via e perché ci ha mostrato la via? Sarebbe abbandonare il nuovo per abbracciare il vecchio. Voglio anche sottolineare come Sarri abbia proprio detto ieri a microfoni raggiunti, non so da quale emittente, che lui ancora allenerà due o tre anni e poi si ritirerà dal calcio. E sinceramente io preferisco andare a prendere un baldo giovine in rampa di lancio come appunto ha fatto la Roma con De Rossi, come abbiamo fatto noi con Tiago Motta, come già ci sono degli illustri altri esempi nel calcio che conta. Vedi, Leverkus e Conciabi Alonso e così via. Io preferisco andarmi a prendere uno che abbia sete e fame piuttosto che uno che stia già pensando a in quale bar andare a svernare a fine carriera fumandosi le ultime paglie. Sinceramente anche no. Ma poi perché Tiago Motta rappresenta il gruppo allargato, la gestione del gruppo allargato, far partecipare tutti durante la stagione mentre Sarri è di vecchio stampo, è a gruppo chiuso. E questo cozzerebbe proprio con gli intenti eventuali della società che qualora dovesse mandare via Tiago Motta, dovesse mandare via ovviamente un eufemismo, dovesse mandare via nel senso che non vuole poter appunto offrire a lui un progetto al rilancio pesante dove si dice a lui e andiamo a investire milioni su milioni andando quindi a disfare quelli che erano i nostri magari iniziali intenti andare ad acquistare a 1, 2, 10 milioni al massimo i giocatori. Ecco che se però mandi via Tiago Motta e poi non vai a puntare su qualcuno che invece ti esalta a questi giovani, basti pensare alla Lazio quest'anno che cosa ha fatto Sarri con i vari Isaksen e tutti quei giocatori che sono arrivati e che hanno faticato a trovare il campo. Sarri è uno chiuso, Sarri è uno che si affida a quegli 11, quei 12 massimo 13 e fatica a far entrare appunto in una gestione allargata e quindi questo che cosa vuol dire? Che è poco profittevole dal punto di vista societario, no? Perché se tu vuoi cercare di ottimizzare, tu devi ottimizzare il gruppo intero non solamente circoscritti giocatori. Quindi per questo e anche perché Tiago Motta ha un approccio mentale dove davanti alle difficoltà è tutta un'opportunità, mentre Sarri ha un approccio mentale dove davanti alle difficoltà c'è la mentela continua di quello che sarebbe dovuto essere e dunque un attacco alle istituzioni, un attacco qui, un attacco là che ha già fatto venire tre quarti di maroni grossi così anche prima che lui eventualmente, mi tocco le bale, dovesse venire qua. Io dico quindi Sarri anche no. Penso di essere stato abbastanza esaustivo e spero che questa traccia audio-video possa arrivare anche ai nostri dirigenti in qualità soprattutto di fiducia Sartori. Sarri secondo me è proprio l'allenatore sbagliato per questo Bologna, lo dico oggi. Detto questo voglio chiudere questo video con la grana Zirkzee perché proprio ieri ha parlato, o ieri l'altro, adesso non ricordo ma penso ieri, ha parlato Fenucci definendo la clausola nel contratto particolare che riguarda lo Zirkzee perché oggi sono emerse nuove verità, non finiscono mai di essersi novità e verità sopra la clausola di Zirkzee che purtroppo è peggio di quello che si pensasse poiché sappiamo tutti che cos'è che si sapeva. Si sapeva che nella clausola di Zirkzee c'è una cifra che permette al Bayer di Monaco di potersi avvalere per ricomprarlo che è di 40 milioni di euro. Poi certo ci vuole l'asset, il berriplacet di Zirkzee, questo non è detto che ci sia però voi capite, ma non è solo questo il problema. E oltre al fatto che c'è il 45% sulla futura plusvalenza a favore del Bayer, questo sarebbe già il problema nel problema, ma ci abbiamo il problema nel problema del problema che a quanto pare questa clausola dei 40 milioni non vale solo per il Bayer di Monaco ma vale anche per tutte le altre società del mondo fino a fine luglio. Attenzione, quindi vuol dire che questa clausola smette di esistere dal primo di agosto ma se una società, faccio un esempio, l'Inter viene e offre 40 milioni al Bologna il 28 di luglio noi siamo costretti ad accettarla, quell'offerta, e dopo la palla passa al procuratore a Zirkzee. Quindi la situazione più che particolare oserei dire caghereccia riguardo al contratto di Zirkzee segno, come ho detto a posteriori, che noi ci abbiamo creduto su Zirkzee ma non abbastanza perché altrimenti un contratto del genere non lo avresti mai stipolato. Secondo me il Bologna non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi fra le mani un gioiello come invece è in essere. Io la vedo così, altrimenti veramente non si spiega aver partorito una clausola sincopatica del genere. Veramente questa è una bella grana. Questa è una bella grana che tra l'altro penso che Tiago Motta stesso vorrà fare luce perché se lui rimane ovviamente Zirkzee deve essere inorganico. Non è che possiamo pensare che Zirkzee non sia inorganico. Quindi provate solo a immaginare eventuali possibili sgambetti, epiloghi del tipo Tiago Motta resta però allora la Juve di Giuntoli che deve essere un pezzo grosso così, non vi dico di cosa, ma di colore marrone non farà carte false per venire a prelevarci i nostri giocatori che sono veramente buoni da Zirkzee che appunto ha questa clausola, al Calafiori e così via. Insomma diventa, diventerà, anzi sarà, sarà se in tutti i casi un'estate di fuoco. E chiudo dicendo anche un'altra cosa. E la malaugurata situazione, mi tocchi i maroni in via preventiva, dove Tiago Motta non sceglierà il nostro progetto ma ne sceglierà uno altrui. Io chiedo al Bologna di non andare assolutamente a vendere barra svendere i nostri gioielli, tantomeno a chi sapete voi. I giocatori vanno pagati, se si vogliono, in maniera profumosa, ok? In maniera profumosa, specialmente per taluni. E questo sia da monito, attenzione, eh? Ci siamo capiti, eh? Che non voglio mica leggere delle situazioni del tipo, non so, Calafiori, quotato 25, barra massimo 30, zigzee, quotato a questo punto 40, perché non può essere altrimenti, perché non abbiamo alcun potere. Quindi attenzione, ragazzi, attenzione, perché la situazione in mano a fiducia a Sartori deve essere... è una bella gatta da pelare, e va trovato il bandolo della matassa prima di ora. E certamente, anche da questo punto di vista, zigzee, la trattenuta di Tiago Motta sarebbe molto importante. Sarebbe molto importante per tanti motivi. Un altro anno insieme. Adesso qua a Mitaccio, ditemi la vostra box commenti qua sotto, di carne al fuoco ne abbiamo messa. Attivate il campanaccio pastorale, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiere da mare.